Servo a tutti, vi presento il fisarmonium, il piccolo fisarmonium, o accordarmonium. Praticamente è un armonium costruito sulla base di una mezza fisarmonica ridotta per renderlo leggero e un mantice di uno shooty box a flusso d'aria continua. Adesso ve lo faccio sentire. Allora, innanzitutto ci si siede a differenza dell'armonium, a gambe incrociate e si sta comodi anche sotto la castiera. Come vedete, il mantice si può usare con un dito solo. Allora, innanzitutto ci si può usare con un dito solo. Allora, innanzitutto ci si può usare con un dito solo. Questo è piccolino, le fisarmoniche ne hanno anche di più, fino a undici. Questo è proprio small, ma anche perché è leggerissimo, da trasportare senza nessun problema. Il secondo registro è il clarinetto. Allora, innanzitutto ci si può usare con un dito solo. Allora, innanzitutto ci si può usare con un dito solo. Per fare l'accompagnamento questo registro è un po' troppo acuto. In breve, invece, con l'accordion. è quello che simula meglio l'armoglio. però le ottane ci sono. è quello che si può usare con un dito solo. è quello che si può usare con un dito solo. è quello che si può usare con un dito solo. questo è quanto per il momento. è quello che si può usare con un dito solo. è quello che si può usare con un dito solo.